Inizieremo a parlare di esami, esami che si possono fare in tutta sicurezza in ospedale in tempi di coronavirus, ci sono delle regole da seguire, ma io mi collegherei subito perché lo vede in collegamento un nostro grandissimo amico, il professor Stefano Arceri. Bentornato carissimo professore. Buongiorno Monica, buon inizio perché è la tua prima settimana. Esatto, lunedì abbiamo iniziato. Faccio allora parte del gruppo della prima settimana. Esatto, vorrei vedere, anzi fra un po' tornerà qui caro professore, però insieme a lei non è da solo oggi perché con lei c'è la professoressa, la vedo, la saluto, Gabriella De Torre che è professore associato di malattie infettive all'Università Sapienza di Roma perché oggi è un argomento importante, anzi io ricordo ai nostri telespettatori che ci potete contattare, il numero di telefono lo conoscete 066508137, vi ricordo anche il nostro contatto mail il mio medico chiocciolatv2000.it e poi i nostri social, mi raccomando, Twitter, Facebook e Instagram. Allora, carissimo professore, beh oggi insomma la giornata ci ha regalato purtroppo delle notizie non troppo belle perché insomma abbiamo letto appunto che i contagi sono in risalita, purtroppo anche i numeri dei cessi, però lei lavora in un grandissimo, lei insieme alla professoressa ha lavorato in un grandissimo ospedale, uno dei più grandi in Europa. Allora, come vi siete organizzati per gestire in tutta sicurezza le visite che si devono effettuare in ospedale? Allora sì, io brevemente ti dico questa cosa Monica perché poi come giustamente hai fatto rilevare tu la situazione si sta un po' modificando, allora daremo se tu sei d'accordo un pochino più di spazio alla professoressa De Torre che proprio è in primissima linea. Considera che la professoressa è venuta qui oggi proprio per noi, ma lei stanotte è proprio al centro Covid del Poligninico Umberto Primo, per cui cerchiamo di farci raccontare. Ah, in mano ecco, un po' il punto della situazione. Esatto, il punto della situazione assolutamente. Allora Monica, noi abbiamo chiaramente diminuito notevolmente tutta l'attività ambulatoriale, chirurgica, quella di routine, perché? Perché evitiamo di fare entrare in ospedale le persone se non strettamente necessario. Cioè assolutamente bisogna evitare di venire, di andarsela a cercare in poche parole, per cui se è una situazione assolutamente necessaria si viene, si fanno le visite ambulatoriali e gli interventi chirurgici, solo quelli realmente d'urgenza. È chiaro che un grande ospedale come il nostro ha comunque diversificato le strade e i percorsi, no? Per cui c'è la strada che purtroppo è dedicata ai malati Covid e invece c'è la strada dedicata alle persone non Covid. E le misure che avete adottato quali sono, professore? Sono diverse? Guarda, c'è il controllo della temperatura prima di entrare. Cioè non si entra proprio nell'ambito del perimetro dell'ospedale se non si fa il controllo della temperatura e in ogni angolo comunque sono distribuiti i vari dispenser per pulirsi le mani e chiaramente l'uso della mascherina è assolutamente obbligatorio all'interno dell'ospedale 24 ore su 24. In questo momento io e la professoressa non la stiamo adottando, ma ce l'abbiamo qua in tasca. Vedi, ormai siamo pieni di mascherine perché abbiamo una distanza di almeno un paio di metri. E questo è importante. Allora io vorrei subito chiedere alla professoressa che ha un po' in mano la situazione, soprattutto il più grande policlinico romano. Allora io vorrei chiedere proprio un po' il punto della situazione. Com'è la situazione? Perché ogni giorno sentiamo di questi aumenti, anche se in miniera ridotta, anche se in maniera sotto controllo rispetto a tutti gli altri paesi europei, perché siamo circondati, 16 mila casi, 13 mila casi, insomma Francia, Inghilterra, insomma sono dati davvero che un po' ci preoccupano. A Roma che cosa sta succedendo? Monica, guarda, come giustamente dici tu, i numeri stanno aumentando. Questo lo apprendiamo da tutti i telegiornali, da tutte le informazioni che ci vengono date con i mass media. La realtà a Roma è che abbiamo un aumento dei casi. Accanto all'aumento dei casi abbiamo un aumento dei ricoveri. Oltre all'aumento dei ricoveri, quindi di gente che risulta positiva e che necessita del ricovero in ospedale, abbiamo anche un aumento del numero dei pazienti che necessita del trasferimento in terapia intensiva. Quindi alla luce di tutto ciò, capiamo quanto sia importante in questo momento agire con l'unica arma che abbiamo a disposizione, ovvero la prevenzione. Professoressa, mi scusi se la interrompo, può essere un colpo di coda dell'estate? Perché questi aumenti? Insomma, si sa, sappiamo che tutti quelli che stavano in Sardegna, in vacanze, in posti con tanta gente, sono tornati tutti positivi. Può essere un colpo di coda? Possiamo in un certo modo, tra virgolette, tranquillizzare le persone che ci ascoltano? Allora, sicuramente abbiamo vissuto all'inizio di settembre un colpo di coda, ovvero tutti i rientri dalle regioni, dai periodi estivi, da dove quindi non sono purtroppo state rispettate le misure di prevenzione. Ahimè adesso sono tanti i focolai, anche i focolai domestici, quindi non sappiamo effettivamente se questi focolai aumenteranno e quindi effettivamente torneremo, speriamo di no, a un secondo periodo simile a quello che purtroppo abbiamo già vissuto. Allora, parliamo di mascherine. Allora, il professore prima ci accennava, le mascherine obbligatorie, giustamente in tutto l'ospedale non si può entrare senza mascherine, però in quali casi dobbiamo utilizzarli? Io vorrei ricordare che in Campania, a Foggia, nel centro di Genova, da oggi, mi sembra dalla Campania o da Foggia, da Campania da oggi, Foggia mi sembra da domenica, sono obbligatorie anche all'aperto, però poi c'è una contraddizione perché stiamo discutendo se aprirò o meno gli stadi, va bene, ma questo è un altro discorso. Allora, in quali casi li dobbiamo utilizzare, le mascherine? Allora, guarda Monica, le mascherine devono essere utilizzate in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico. Per esempio, la settimana scorsa siamo andati nei seggi elettorali, quindi un luogo pubblico chiuso, dove era necessario indossare la mascherina. La mascherina va indossata nei mezzi di trasporto, sono luoghi chiusi ma aperti e accessibili al pubblico, quindi frequentati. La dobbiamo utilizzare anche nei luoghi aperti, laddove non siamo in grado di garantire la continuità del distanziamento sociale. E quando parliamo di distanziamento sociale, ricordiamoci, come diceva prima il professor Arceri, parliamo di una distanza che deve essere di almeno un metro, se abbiamo la mascherina, o di due metri senza la mascherina. Quindi sono queste le circostanze in cui noi dobbiamo indossare la mascherina. Tutto questo, ricordiamoci, è stato recepito dal decreto del Presidente del Consiglio, che si avvale, come sappiamo, del Comitato Tecnico Scientifico. Quindi indossiamo la mascherina. Ecco, ma come la dobbiamo indossare, professoressa? Perché in giro, ovviamente, la dobbiamo indossare bene, perché sennò, insomma, non vale a nulla indossare. Ecco, come? Ecco, stiamo vedendo anche delle immagini in questo momento. Sotto al naso è inutile. Ecco, è inutile, infatti. Se la sta mettendo. Ecco, professore. La mascherina, previa igienizzazione delle mani, deve essere afferrata dai legaci o dagli elastici e deve essere fatta aderire perfettamente al volto, partendo dalla struttura in ferro, dal ferretto, che quindi aderisce al naso e portandola giù sotto il mento. In questo modo, noi abbiamo coperto sia il naso che la bocca, che, come sappiamo, rappresentano le vie attraverso cui possiamo diffondere le nostre secrezioni. Professore, si è appena arrivata su Facebook una domanda di Rita che ci scrive dalla provincia di Chieti. Insomma, ne sono arrivate tantissime, professoressa, come immagine. Insomma, magari i nostri telespettatori sono molto attenti a questo tema che, insomma, adesso ci sta più che mai a cuore. Quando non utilizzo la mascherina la lascio sparsa nella borsa. Dove dovrei tenerla? Allora, questo tipico magari della donna che va a fare la spesa al supermercato. Quindi la tengono nel braccio, per esempio, o se la tengono appesa in macchina sul... Capiamo una cosa. Le mascherine si distinguono in monouso o riutilizzabili. Se la mascherina che abbiamo utilizzato è in monouso, la dobbiamo smaltire nella raccolta indifferenziata. Non la dobbiamo poggiare su superfici, la dobbiamo smaltire. Se la mascherina è riutilizzabile, noi la dobbiamo quindi porre in una busta e poi sottoporla al lavaggio. Secondo, le indicazioni che sono riportate su ciascuna mascherina. Ci sono delle mascherine che addirittura possono essere lavate a 60 gradi e riutilizzate più volte. Quindi fare attenzione a quello che è riportato su ciascuna mascherina. Questo è importante. È importante, altrimenti la mascherina non dà la protezione che dovrebbe dare. Se noi la poniamo nella borsa e poi la riutilizziamo in una mascherina monouso oppure la poggiamo su di una superficie, la contaminiamo, non va bene. Professoressa, se veniamo a contatto con una persona positiva, com'è la procedura in questi casi? Se veniamo a contatto con una persona positiva, quindi con un caso accertato di paziente, tampone positivo, tampone positivo, saremo noi stessi contattati dal servizio di prevenzione, perché c'è tutta una procedura che sul territorio si attiva, per effettuare il tampone. Scientificamente si definisce persona che è venuta a contatto con un soggetto con infezione e da SARS-CoV, la persona che è stata a contatto con quest'altro soggetto e che non indossava però il dispositivo di protezione, ovvero la mascherina. E poi da lì parte un po' il tampone, comunque deve stare in quarantena preventiva? In quarantena, in attenza di effettuare il tampone, quindi sarà contattato dai centri di prevenzione, da tutti i centri distribuiti sul territorio, questo si è creato grazie al nostro sistema sanitario nazionale, proprio per evitare l'affollamento e i pronto soccorsi, e la persona a contatto stretto di un soggetto con infezione da SARS-CoV dovrà stare in quarantena in attesa di effettuare questi controlli. Parliamo degli anziani, che sono le persone più fragili, quelle più a rischio, soprattutto per contrarre il coronavirus. Allora, è importante la vaccinazione, la vaccinazione influenzale, magari ci fosse quella contro il Covid, è influenzale anche contro il pneumococco, contro la polmonite? Allora, questa è una bellissima domanda. Assolutamente sì, possiamo parlare per mezz'ora di questa cosa. La vaccinazione, sì Monica, la vaccinazione, come diceva il professor Arceri, questo è un argomento a noi molto caro, perché anche questo fa parte della prevenzione. Mi preme dire una cosa, che innanzitutto il virus dell'influenza stagionale non è uguale al virus SARS-CoV responsabile della malattia Covid. Quindi sono due virus diversi. La vaccinazione anti-influenzale è fortemente raccomandata nei soggetti fragili, nei soggetti anziani, perché da un lato quindi aiuta a fare una diagnosi differenziale tra le due infezioni. In altre parole, se io ho uno stato influenzale, e sono vaccinato nei confronti del virus dell'influenza stagionale, è chiaro che è più probabile che abbia l'infezione da SARS-CoV. A questo mi preme anche aggiungere che la letteratura scientifica diventa sempre più importante e più rappresentata riguardo questo argomento, perché sembra che addirittura la vaccinazione abbia anti-influenzale, come anche quella anti-pneumococica, di cui giustamente... Questo è importantissimo, senti Monica. Sì, eh. Sono chiaramente lavori scientifici, no? Basati su quello che si ritrova scientificamente. Comunque sembra allenare il sistema immunitario. In qualche modo allena il sistema immunitario dell'individuo che nel caso si trovi di fronte all'infezione da SARS-CoV sarà maggiormente in grado di superarla. Questo è importante, soprattutto per quegli anziani dopo i 65 anni, mi raccomando, una raccomandazione importante. Professore, siamo in chiusura. Lei vuole aggiungere qualche cosa? L'unica cosa che volevo dire, innanzitutto ringrazio la professoressa De Torre che insomma è veramente in prima linea e ci ha spiegato benissimo le cose. No, forse aggiungerebbe che non arrivi l'informazione sbagliata perché bisogna stare molto attenti in questo momento perché poi la gente ci mette un attimo a dire che abbiamo detto delle cose. Il fatto di vaccinarsi contro l'influenza, Monica, l'H1N1, non vuol dire che se arriva la febbre è per forza Covid. Questo è importante. Dici, io sono stato vaccinato contro il virus dell'influenza per cui se mi viene la febbre è sicuramente Covid. Assolutamente no. La copertura del vaccino influenzale non copre tutti i virus influenzali. Per cui nel momento in cui ci dovesse essere un'influenza e c'è una febbre, tutti i sintomi influenzali, a quel punto c'è un'ipotesi maggiore ma non vuol dire che è quello che sia il Covid. Mi raccomando, Monica, perché se no qui poi creiamo il panico. Il panico, è vero. Grazie, ma torneremo presto a parlare. A parlare con lei, professora Arceri, e con la professoressa De Torre. Grazie per averci dedicato del tempo. So che è un periodo particolare soprattutto in ospedale. Grazie, a presto.